salve a tutti e ben ritrovati dal vostro jo ci ritroviamo su pixarq dove praticamente oggi avevo intenzione di fare una cosa insieme a voi dato che mi sono preparato e comunque o diciamo fatto tutti i preparativi o almeno spero che tutti i preparativi siano giusti per quello che dobbiamo andare a fare vi volevo fare vedere i miei progressi allora come potete vedere sono adesso a livello 64 addirittura sto praticamente costruendo craftando crescendo in maniera incredibile mi sto divertendo tantissimo durante il mio tempo libero quel poco tempo libero che ho la sera mi sto dedicando tantissimo a dark e devo dire a pixarq e devo dire che mi sto veramente ma veramente divertendo tantissimo ho esplorato anche i primi dungeon con parecchie difficoltà devo dire perché i boss in alcune situazioni mi hanno davvero davvero fatto male però fortunatamente alcuni dungeon quelli minori sono riusciti già a esplorarli per quanto riguarda il mio inventario come potete vedere ho diversi oggetti che ancora non vi ho fatto vedere ovvero questo che non so che cos'è poi ho trovato un bazooka addirittura dentro una chest dei contenitori quelli che scendevano giù l'assault rifle questo qua che sarebbe in realtà un fucile di precisione a raffica davvero davvero comodo che ho trovato anch'esso anzi no questo l'ho trovato dentro un dungeon a dire la verità l'ho rubato e sono scappato perché il boss addirittura aveva 200k di hp che per me erano un qualcosa forse di incredibile quindi sono dovuto necessariamente scappare e poi cos'altro vi devo fare vedere beh vi devo fare vedere il fatto che ho tamato comunque diverse creature sono riuscito a tamarmi un trent nella foresta magica che davvero utile come difesa personale dura nella casa anche perché come potete vedere può essere mimetizzato ora vediamo se si eccolo e praticamente si trasforma in albero davvero una figata pazzesca qui mi sono piantato gli alberi magici dato che comunque mi servono per la legna magica qualora dovessi craftarmi robe magiche o cose incredibili e dentro casa mi sono fatto gli armadi mi sono fatto il frigo tra virgolette che poi non è il frigo ma è la preserving bin qua vediamo se abbiamo ecco abbiamo altri barilli d'olio benissimo quindi prendiamo lo scarafaggio e buttiamolo via per farlo camminare ancora eccolo perché delle volte si bugga poi mi sono craftato il fire arm workable che praticamente serve a incantare i miei fucili perché ho scoperto che come potete vedere qui con il mio magnifico sniper rifle il long neck praticamente non posso lanciare i dardi magici se non lo potenzio dal punto di vista magico e quindi praticamente rimango fregato tra virgolette perché non posso tamare le creature magiche poi qui invece ho l'alchimistone che mi serve praticamente per fare la polvere di pietra elementale che mi serve per tamare le creature magiche il tipo elementale di creatura magica che ho scoperto successivamente ho creato finalmente il mio fabbricatore che bello finalmente posso craftare le cose serie e poi ovviamente il tavolo magico e la workbench che mi servono appunto per le altre cose ora qui praticamente mi servono le thunder magic stone che credo di non avere più perché le ho finite ero andato per l'appunto alla ricerca di queste thunder magic stones che hanno eppure ma no ce le ho ce le ho ce le ho allora posso craftare un altro colpo un altro colpo magico perché costano tantissimo questi questi colpi magici cioè mi costano 10 praticamente 10 primari core di un mostro praticamente magico più vabbè i colpi per il cecchino che ne ho craftati veramente tanti e le thunder magic stones quindi mi servono veramente veramente tanta roba dato che comunque ho pochi colpi io non ricordo se o hanno faccio altri core e allora li utilizzo così mi crafto qualche altro se ne ho vediamo se ho qualcos'altro che mi può essere utile no qua non nulla qui cos'ho aspetta ecco e qua ho le frecce magiche esatto che mi servono qualora non riuscissi diciamo preferire magari utilizzare le frecce magiche anziché i colpi magici dato che oggi voglio tamare insieme a voi un quello che mi serve praticamente mi serve un come si chiama un unicorno un unicorno magico e quindi dato che voglio tamarmi l'unicorno magico vediamo se posso mettere le frecce qua esatto posso metterle nella crossbow vediamo se me le da sì perfetto perché mi servono appunto queste frecce magiche per tamare per l'appunto le creature magiche il le frecce sedative le frecce narcotiche in realtà non funzionano e dato che non funzionano per l'appunto sono costretto ad utilizzare le frecce magiche allora utilizziamo ecco beviamo un po d'acqua e mangiamo la carne così siamo perfettamente full l'armatura è ottima questa che cos'è turkey egg quindi vabbè uovo di tacchino ma non mi interessa rubarlo quindi vi stavo dicendo che per tamare appunto le creature magiche le classiche frecce narcotiche o i tranquillizer dart che non so se effettivamente ho già sbloccato vediamo se sì i sleepy dart che funzionano con un narcotico polvere da sparo e e non so cosa a dire la verità ma si creano nella workbench vediamo weapon ammo sì e glass ok la vabbè non sono difficilissimi da craftare non sono difficilissimi da 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 craftare io qua vedete già ne possiedo comunque pozioni e sleepy potions e polvere da sparo ne posso craftare ancora e la craft sicuramente che mi utilizzi che la utilizzerò per dopo quindi quei darti sono molto più facili da craftare rispetto a quelli di arc qui tra l'altro un sacco di vetro che posso utilizzare quindi quindi tanta roba e poi cos'è che altro devo utilizzare forse forse colpino al gunpowder quindi sono facilissimi da fare sono davvero facilissimi questi mi serviranno tantissimo per per tamare poi successivamente altri tipi di volatili quali il quetzal che sicuramente dovrò tamare poi da solo non so neanche ancora come riuscirò a tamarlo da solo però mi porto il gargoyle che come potete vedere ho tamato anch'esso in una foresta magica è abbastanza semplice da tamare anche perché si tama a carne quindi ecco gli aumentiamo il danno si tama a carne quindi diciamo che lui è abbastanza tranquillo da quel punto di vista devo andare verso la foresta magica proprio perché gli unicorni si trovano lì e mi serve potete amare l'unicorno anche perché vorrei ottenere il suo corno il suo corno luminescente serve appunto per prendere materiali magici all'interno della foresta o comunque all'interno in generale anche delle miniere quindi mi serve tantissimo e lo voglio assolutamente ottenere come potete vedere ho anche esplorato gran parte della mappa mi sono passato il tempo girando tondo volando a destra e sinistra anche se ancora non ho effettivamente esplorato tutto non ho esplorato tutto anche perché devo trovare una il golden realm che ancora non ho trovato non so effettivamente neanche se lo riesco mai a trovare in questa mappa perché ho sentito che ci sono diversi tipi di mappe che possono essere implementate all'interno del gioco quindi io ormai mi sono stabilito con quella di base che sarebbe questa però magari in futuro potrei esplorare o utilizzare diverse mappe per magari portare una serie live per portare una serie diciamo diversa da quella che sto portando adesso giusto per fare un esperimento alternativo come ben sapete io i video di pixar per il momento li sto facendo uscire soltanto la domenica perché appunto mi vengono tra virgolette semplici da registrare anche se anche pixar ha il suo lavoro dietro e poi ovviamente mi servono anche per non lasciare il canale tra virgolette morto durante i periodi vuoti e quindi e quindi ne approfitto e vi lascio un piccolo contenuto giusto la domenica per così per spezzare un pochino la monotonia sempre di final fantasy di sidia che magari può anche a lungo andare dare non dico fastidio però comunque può anche stancare da un certo punto di vista e quindi per portare anche della varietà all'interno del mio canale visto che non voglio essere monotematico e non voglio essere troppo scontato nelle cose voglio portare voglio diversificare un pochino la mia programmazione e fin quando riesco porterò la domenica pixar visto che comunque magari porterò anche qualcosa in live ma è difficile dato che comunque le live per la maggior parte delle volte sono sempre comunque incentrate su opera omnia visto che so che vi piace tanto quindi cerco di accontentarvi il più possibile però qualora non riuscissi a portare opera omnia per un qualsiasi motivo purtroppo per chi non lo vuole seguire dovrete sorbirvi pixar qualche live di pixar giusto dove andiamo in giro esploriamo magari vediamo qualcosa di nuovo cerchiamo di fare qualcosa insieme eccetera eccetera allora adesso parte la giamo adesso c'è adesso arriviamo durante la parte noiosa che è quella per l'appunto di cercare l'unicorno sperando che ce ne sia uno in questa foresta magica perché non è detto che gli unicorni sponino sempre nella stessa foresta magica io qua ad esempio ne ho visti parecchi anche se qua in realtà ho tamato sia il gargoyle che il trent che si trova sotto forma di quest'albero come potete vedere quest'albero praticamente adesso si trasforma e diventa un trent adesso ve lo faccio vedere vediamo se si trasforma vediamo se ci sediamo magari no non si sta trasformando strano perché non si trasforma in trent vediamo se questo si trasforma no neanche questo però se lo attacchiamo si ecco si trasforma in trent che fa guardate quanti danni riesce a fare a parte che ho notato una cosa che praticamente i dinosauri o i mostri selvatici sono decisamente più forti di quelli tamati guardate guardate come mi sta shottando no no scappiamo assolutamente vediamo quanta vita guardate ancora lui quanta vita 3000 passa e io invece già sto quasi crepando praticamente quindi potete immaginare che effettivamente i dinosauri devono essere assolutamente tamati o ad altissimi livelli veramente ad altissimi livelli oppure oppure fanno la fine del della mosca che viene schiacciata dallo schiacciamosche praticamente infatti qua i dinosauri o i mostri in generale sono utili per quanto riguarda il farming dei materiali più che altro ma poi personalmente magari se combattete il dinosauro o comunque il mostro per conto vostro forse addirittura siete più forti se avete l'equipaggiamento giusto ovviamente ora qua io non sto notando nessun nessun unicorno non sto notando nessun unicorno anche se qua una volta l'avevo trovato a parte il fatto che un'altra cosa di cui vorrei avvisarvi è il fatto che spero che voi non sentiate in sottofondo il rumore del ventilatore perché qui già dove sto io è cominciato il caldo di quello pazzesco quindi quindi si è cominciato il caldo e quindi preferirei non morirci durante il periodo estivo allora qui non abbiamo trovato nessun unicorno per cui adesso mi sposto nell'altra foresta vediamo credo di non starci neanche troppo come tempistiche perché male che vada faccio un taglio ma probabilmente non ce n'è bisogno perché è abbastanza vicina come foresta quindi qui nel frattempo ci stiamo avvicinando verso dungeon verso nuove zone che dovrò assolutamente esplorare questi comunque sono dungeon che già al mio livello posso esplorare infatti se non sbaglio o uno di questo o uno simile l'ho già esplorato fino in fondo tra l'altro sconfiggendo anche il boss con un po' di fatica però l'ho sconfitto ora qui dovrebbe esserci una piccola frazione di foresta magica eccola qui vediamo se qua troviamo un unicorno magari è difficile perché comunque la frazione di questa foresta magica è davvero davvero piccola ed è raro che comunque spunti un unicorno in questa sezione piccola lì nel frattempo c'è la foresta oscura dove probabilmente ci sono i nightmare ci sono i draghi ci sono un bel po' di mostri ecco i wrath praticamente ci sono quindi si potrebbero essere comunque problematici a questo punto del mio gameplay allora riposiamoci perché sono praticamente quasi stanco quasi scarico di energia nel frattempo controllo un attimo la mappa perché lì c'è l'altra foresta magica ok con la scusa non sto facendo neanche tagli perché con la scusa vi porto nel frattempo all'esplorazione della mappa visto che comunque non abbiamo avuto tantissime possibilità di esplorazione o comunque non abbiamo avuto la possibilità di vedere altre porzioni di mappa con la scusa vi faccio vedere anche la parte innevata vi faccio vedere la parte della foresta oscura vi faccio vedere comunque tante cose che effettivamente non vi ho fatto vedere ecco qui siamo arrivati al bordo limite della mappa esatto qui nel frattempo ci avviciniamo ad un'altra foresta oscura che confina con una foresta magica classica vediamo se qua troviamo il maledetto unicorno anche perché il fatto di trovarlo non implica che lo riusciamo a tamare dato che comunque lui volerà, scapperà e io dovrò inseguirlo praticamente renderà il timing decisamente più difficile allora firmiamoci un attimo vediamo se lo troviamo delle volte può essere anche a terra che aspetta praticamente di spiccare il volo anche se qua adesso non si sta vedendo assolutamente nulla forse anche perché è notte lì c'è un ragno James Spider lì ce ne sono altri probabilmente anche perché è sera sono le 2.20 praticamente di notte dovrei aspettare forse che faccia dovrei aspettare forse che faccia giorno per far spuntare gli unicorni perché qui effettivamente esiste il ciclo giorno notte e anche i mostri e i dinosauri che spawnano da quello che ho capito cambiano con il ciclo giorno notte quindi magari faccio un piccolo taglio fino a che non arriva la mattina e poi ci rivediamo tra poco ok ragazzi ci siamo sono le 8 adesso quindi infatti è diventato giorno io non so se effettivamente adesso riusciamo a trovare gli unicorni o comunque riusciamo a trovare qualche tipo di altro mostro spero spero di sì anche se credo che in questa porzione di foresta ormai non riusciamo a trovare nulla quindi magari ci andiamo a spostare verso la prossima foresta anche perché vedete i mostri sono rimasti bene o male gli stessi qui abbiamo anche la foresta oscura dobbiamo stare attenti anche perché qua nella foresta oscura se non ricordo male potrebbero spawnare i draghi i draghi con gli oscuri che potrebbero effettivamente darci qualche problema qui nel frattempo vi faccio vedere un pochino di zona innevata tutta bella fiera e se non sbaglio la zona sì dobbiamo andare esattamente da questo lato ne approfitto anche per esplorare da un certo punto di vista anche perché questa zona l'ho già comunque percorsa da solo però ne approfitto proprio per farvi vedere i vari biomi delle varie comunque del gioco ecco qui adesso siamo nella dark forest come potete vedere tutte pietre elementali oscure qua questo è un ottimo spot per il farming delle pietre oscure che servono anche al ai colpi se non sbaglio narcotizzanti quelli sì quelli diciamo del fucile quelli speciali intendo ok qui fermiamoci vediamo un attimo se vediamo magari a terra oddio mi è spuntato accanto alla pantera questa è una delle cose che diciamo un po' mi dà fastidio del gioco il fatto che a volte le creature non vengono caricate in tempo e quindi ti spawnano praticamente addosso e tu non hai la possibilità delle volte anche di difenderti a me è capitato che mi hanno praticamente shottato dei dinosauri o comunque dei mostri in generale proprio a causa di questi diciamo di questi piccoli ritardi nel caricare le creature sopra di noi non c'è nulla da questo lato non c'è nulla neanche donna pazzesco di come non si riescono più a trovare gli unicorni cioè ne avevo trovato addirittura due o tre che avevo eliminato per tentare di trovare per tentare di prelevare appunto il corno il corno di unicorno però a quanto pare ci sono soltanto le panterre i jamespider lì c'è un trent là c'è un'altra pantera no qui effettivamente unicorni non ce ne sono c'è un'altra pantera un altro jamespider l'altra foresta dove si trova da quel lato allora proviamo a proseguire un attimo dritti di qua vediamo un po' che cosa che cosa troviamo se troviamo qualcosa anche se penso che probabilmente non troviamo una ceppa no non troviamo assolutamente una ceppa va bene allora a questo punto direi che faccio un altro taglio perché così mi posso concentrare alla ricerca per andare alla ricerca appunto dell'unicorno e poi nel momento in cui lo trovo ci rivediamo ok ragazzi finalmente vi posso fare vedere un timing è veramente non so quanto tempo che sto girando tondo per trovare una creatura da tamare e finalmente ho trovato quella che volevo stavo tamando l'unicorno come vi stavo come vi avevo accennato inizio puntata ma il problema è che mi ha crashato tutto il gioco la registrazione tutto è andato tutto a puttane quindi che cosa ho fatto ho dovuto ricollegarmi e sono andato in giro un pochino nella mappa ed ho trovato la creatura che avevo visto in un video praticamente e che avevo deciso di tamare in futuro più in là però avendolo trovato adesso e avendola trovata tra l'altro con questo livello che è veramente alto stiamo parlando livello 80 cioè livello 80 devo tamarla e sto parlando del drago fatato ragazzi sto parlando del drago fatato e devo assolutamente tamarlo guardatelo livello 80 come gira fiero ecco l'ho colpito una volta dov'è il gargoyle dai che dobbiamo inseguirlo che adesso parte la ricerca la ricerca matte disperata del drago fatato che tenterà di scappare a parte che qua è una zona molto pericolosa perché ci sono carnotauri grifoni e tutto quello che volete voi bene liscio colpito oddio ma si è buggato no madonna mi sembrava troppo bello per essere vero che si fosse buggato devo stare tra l'altro attento perché va bene che si sposta e magari va da un'altra parte ma non deve andare troppo lontano perché se per caso per sbaglio mi finisse in acqua mi morirebbe praticamente affogato e quindi io non lo posso permettere assolutamente non lo devo permettere non lo posso e non lo devo permettere quindi devo farlo cadere in una zona pianeggiante quindi cerchiamo di portarlo in una zona pianeggiante ecco magari qua e no però lì va in acqua così dannato che dici ci vai oddio sott'acqua what ma perché può stare sott'acqua non me lo dire che può stare sott'acqua ma che sta facendo ma no così il torpore oh Gesù ma dove ma dove sta finendo ecco bravo sollevati uuuh dai che si è inceppato no non si è inceppato no non scappare ma poi è dannatamente veloce eh ma qua però va in acqua così uh no non è acqua lì dai ma chi è che mi sta attaccando chi è che mi ha attaccato boh niente non non si sapeva ok qua non dovrebbe essere effettivamente in acqua quindi diamo le bacche e aspettiamo il timing non dobbiamo fare altro sperando che non ce lo buttino a terra che si è Madonna che casino qua Pure il paracetamolo qua Levati Ah madonna lì c'è una pianta Aspetta Ecco Quelle sono piante velenose che potrebbero darmi problemi Lì a parte ci sono i genghicinghiali Una cosa sinceramente non mi piace più di tanto Non mi piace più di tanto Dai quando si tama Speriamo che Non crepi perché qui Non dovrebbe essere con la testa comunque sott'acqua Perché Il problema è che se la testa va sott'acqua Mi muore affogato Mentre invece così Non dovrebbe creparci Credo Perché la testa sembra essere comunque abbastanza fuori Oh te ne vai Sembra essere abbastanza fuori la testa Quindi Non dovrebbe fare una brutta fine Speriamo Sì Ce l'abbiamo fatta Che bello Il fairy dragon Però ci vuole la sella per questo Infatti si Equipaggia la sella per cavalcare Lo posso portare No Tramite Tramite Pixblock Tra un minuto Ecco Allora nel frattempo vediamo una bella lotta tra un carbonemis E un cinghialotto I cinghiali qua sono molto infami Però si potrei aspettare un attimo Giusto un minutino per Sì dai Possiamo aspettare insieme Così lo porto a casa Mi crafto la sella E poi E poi ci facciamo un piccolo giro Intanto non sono distante da casa Almeno credo Sì dai Non sono distantissimo E così poi faccio la sella Dopo che faccio la sella Sì ci facciamo un giretto Lo proviamo E dopodiché Oddio là c'è un cinghialozzo che non mi piace Ma Oh Ecco Madonna livello 62 addirittura Era alto questo Ok 5 4 3 2 1 Oddio Cos'è? Eccolo Converti in pixblock Mi porto le bacche a casa Ok E ce ne andiamo col gargoyle Verso casa Così ci craftiamo la sella Ah là c'è anche il sarcosauro Ok Ok sì dobbiamo andare sempre dritto Vabbè sì che comunque ho messo anche il marker Quindi casa La troviamo La troviamo easy Così Così nel frattempo La sella tra l'altro del drago fatato Non è difficilissima da craftare Ho visto già L'engramma Praticamente ci vuole la pelle I silver ingot E i primari core I primari core Li abbiamo ottenuti un paio già Quindi alla fine Ci sta Poi la pelle Ne abbiamo un casino Sullo squalo Il megalodonte Ma anche a casa Dovrei averne comunque di pelle E poi i silver ingot Ce li ho Perché Farmando comunque Nelle miniere Ho comunque trovato E forse questo era No questo non è silver No questo è quartz Ok no Pensavo fosse No ma il silver Comunque si trova in profondità Io l'ho trovato Quindi alla fine Non è difficile Non è tanto difficile da trovare Non è tanto difficile da trovare Il Diciamo l'argento E' l'oro quello che ho trovato Con tanta difficoltà L'ho trovato Perché Praticamente ho letto Che si trova Proprio in fondo Tipo Proprio sul fondo Della terra Praticamente Devi scavare Tantissimo E trovi l'oro E così è stato Effettivamente Però Vi posso assicurare Che non è stato facile Comunque Pelle Sì qua ne ho un sacco Poi Prima ricorre Ce li ho a sufficienza Perché erano 5 Se non sbaglio Credo Non ricordo E i silver ingot 1,2,3,4,5 Quindi qua mettiamo Fairy Ecco esatto La posso craftare Oh E abbiamo la sella Bene 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 Quindi Prendiamo il blocco Lo buttiamo fuori Eccolo qui Il nostro Fairy Dragon Oh Ecco Equipaggia la sella Per cavalcare Quindi Prendiamo la sella Eccolo qui E adesso Possiamo cavalcare Il nostro Fairy Dragon Guardate Madonna Che bello A parte che è Velocissimo Ecco Poi attacca Udio Col tasto destro Col tasto destro Fa tipo lo scudo Si para Ma Ma per caso Può raccogliere risorse Il Questo drago Perché Se può raccogliere risorse È eccezionale Vediamo quanto danno fa Udio 125 Madonna Fa parecchio danno E danno 230% Eh la vita Giustamente È un po' piccolina Effettivamente Allora tu devi mangiare Le bacche Giusto Quindi la carne La possiamo togliere Però raccoglie Molta carne Molta chitina Raccoglie tanta carne E tanta chitina Quindi Non è male Effettivamente Non è assolutamente male Però guardate Che bello Il Fairy Dragon Madonna Appena l'ho visto In un video Che non mi ricordo Dov'era Lo volevo Assolutamente E finalmente Ce l'abbiamo fatta Oddio Vediamo se ha altre Convert No Non si trasforma Non si trasforma Lei Perché in questo caso È una femmina Non si trasforma Beh dai Direi che sono abbastanza soddisfatto Il prossimo step Sarà sicuramente Prendere qualche altra creatura Adesso non so Mi andrò a documentare Per vedere quale creatura Però preferirei Tamare Una creatura oscura No Tipo della foresta oscura Giusto per fare Un po' di bilanciamento Perché Ho tamato Il Gargoyle E il Fairy Dragon Nella foresta magica Mentre invece adesso Vorrei andare Nella Dark Forest E tamare qualcosa Di bello L'osco Quindi Quindi sì Dai Ci sta Ci sta Per il momento Comunque è tutto Io al solito Vi ringrazio Per essere stati con me Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima